Allora eccoci giunti al momento del quiz Allora intanto mandiamo la sigla del nostro quiz Allora chi vuole essere tramezzani Sapete di cosa si tratta Allora voi due siete due terzi portieri No? Sì Prima che giochiate si devono infortunare Quattro portieri, due per squadra Quindi è una cosa che non accadrà mai A me va male perché ora ne rientro un altro Perché se resti anche quarto portieri C'è Castellazzi che deve rientrare Una roba vergogna Quindi noi vi diamo la possibilità di sostituire tramezzani qui come opinionista Allora faremo la domanda Avete la possibilità di ascoltare tre opzioni Alla terza opzione schiacciate il tasto Il primo che schiaccia il tasto ha diritto a rispondere Proviamo i tasti Mario Frison Ma prova ancora Mario Prova Frison Perfetto Molto bene Allora andiamo con la prima domanda Vediamo le immagini Murigno Fa il gesto Delle manette Ok? La domanda è Cosa ha voluto dire Murigno con questo gesto? A Sta invitando a montare una festa a Sadomaso B Si è accorto che in tribuna c'è Bin Laden e sta dicendo arrestatelo C Si sta finalmente costituendo alla polizia per il reato di rottura di coglioni plurima Frison Risposta esatta Molto bene Andiamo con la seconda domanda Io in tribuna avevo visto Bin Laden Quindi io in tribuna l'avevo vista Si va bene ma però non era il caso Frison aveva la domanda e ha risposto perfettamente Vediamo la seconda Guardiamo questo filmato che è molto interessante C'è questo Ecco il difensore Vediamolo meglio dal basso Cosa fa il difensore? Fa per rinviare Questo difensore può salvare Colla Cosa è successo a questo difensore? A Si è provvisamente ricordato che deve pagare l'acconto Irpef A B Ha finto un valore per cadere sopra un orientiere del quale è innamorato C Un attaccante gli ha canticchiato la canzone di Pupo e di Manuel Filiberto E lui si è sentito male Mario B B risposta esatta Siamo pari Perfetto Molto bene Terza domanda Vediamo Terza domanda Allora vedete questa mascotte che mangia una cheerleader Sa la vostra fine ragazzi Allora guardate bene Allora Perché la mascotte ha mangiato la cheerleader? A Perché ha avuto un improvviso calo di zuccheri B perché quella cheerleader la dà a tutte le mascotte a lui no B perché la mascotte è un lottano apparente di Galeazzi Frison B Non è partito il colpo Ma chi è che ha azione i pulsanti qua? Allora Frison B B Sbagliato Secondo me è la C Sbagliato Tra mezzani rimane il nostro opinionista Allora Allora Scusate Mi chiede la linea Sky Sport 24 subito Phantom? Sì sì gente subito Subito la linea Sky Sport 24 Ok